Buongiorno consiglieri. Assente di Gesù. Assente Figuccia. Assente Losardo. Presente. Lucido. Assente Palazzo. Assente Stabile. Assente. Nove assenti, un presente. Assente. Quindi non siamo in numero legale, di conseguenza la seduta non si può aprire, quindi è chiusa. Anche se non si può aprire, è chiusa. L'appuntamento è domani alle ore 9.30 in seduta di proseguizione. Va bene. Buongiorno a tutti. A domani. 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 Grazie.